Ora però c'è un premio importante che è quello della TV, premio TV a Franco Capasso. Eccolo qua, Franco Capasso amico di sempre, tanti amici, tanti amici, tanti amici sezioni, sono seri, tipo di premio, che è il basso, la di gara, dove sta il premio? Premio a Franco Capasso? E' un po' da me, poi volai, eccola il premio. E' tutto quello che io non so, l'importante è il premio. Io sono appoglioso di essere qui anche questa sera, a Franco Capasso c'è il premio, c'è il premio. Ah si, benvenuto. Io sono il premio, per il nostro pubblico. Io faccio poi sempre la serata speciale per l'Italia, con produzione e con l'Italia Freire di Siamo. E' un giocatore che è un giocatore, per l'Italia Freire di Siamo. Grazie a te. E' bello di esserci la prossima, io invece ti auguro Natale, 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 Natale. E' un giocatore, Natale. Grazie a te. 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 Leggiamo la motivazione. Edizione del programma del musico Bla Bla Bla, grande comunicatore di mozione, attraverso questo intervistico, dimenzione di un'ora di testa. Applausi. Grazie a te. 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 e abbiamo anche Marcello Reano e premiamo anche con San Gennaro e qui stiamo facendo un po' la prima reazione c'è anche Pio Anciplotti e Pio Anciplotti e Marcello Reano e Pio Anciplotti e Marcello Reano e poi San Gennaro siamo finendo di San Gennaro intanto si preparano gli artisti dei percorsi d'arte Lorenzo Di Marino, Claudio Torino, Pizzano Cotrino, Marcello Ducce, Quiglia e Pizzolino di fotoparte dei percorsi d'arte a questo punto facciamo una foto ricordo tutti quanti ma il problema è il modo di fotoparte qualcuno ci sarà ci sarebbe qualcuno con il telefonino a fotograppare si ci sono i telefonini che te l'ha dato a tutti intanto ringraziamo anche il nostro cloud il mio avversario ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua quowni ecco qua Grazie.